Il presidente d'Italia Nostra, Leandro Ianni, sollecita un intervento di restauro per il monumento ai caduti. Il ricordo dei caduti delle guerre nel nostro paese, Italia Nostra ha indetto per il 4 novembre la giornata del monumento ai caduti. Tutti i comuni, anche i più piccoli, conservano un patrimonio diffuso di monumenti di arte e di memoria, unico nel suo genere, spesso di buona qualità, sempre realizzato con materiali di pregio. Anche Caltanissetta ha il suo monumento ai caduti. Il 4 novembre, in occasione della giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, ai piedi del monumento ai caduti di Viale Regina Margherita, si radunano le autorità civili, militari e religiose, in presenza di cittadini e scolaresche. Il rituale prevede la cerimonia dell'alza bandiera, la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa, la deposizione di una corona da loro da parte del prefetto e la partecipazione di membri dell'associazione di ex combattenti vittime civili e reduce di guerra. Italia Nostra però evidenzia il mediocre stato di conservazione del monumento ai caduti, realizzato a suo tempo da Cosimo Sorgi. Si notano marmi divelti, fessurati e manganti. L'ossidazione dei due cannoni in ferro e lati della statua è stato di degrado. Pertanto, l'associazione sollecita un intervento di restauro da parte del Comune di Caltanissetta e della soprintendenza ai beni culturali, al fine di restituire piena dignità e integrità a questa peculiare testimonianza della storia e dell'arte italiana presente nella nostra città.